Sì, ciao a tutti ragazzi da Studio Camurrina, buongiorno, come è successo questa epidemia che ha segnato tutti, io sto scendo per la prima volta di casa dopo la notizia che tutte le attività commerciali devono rimanere chiusi. Come sapete io e la mia famiglia abbiamo tre attività, un laboratorio d'arto, un ristorante e un bar che oggi, almeno fino a nuove disposizioni fino al 25 aprile, devono rimanere chiusi. Significa tutto fermo. Non c'è stato nessun modo, appunto, per organizzarsi. Questo significa non lavorare, non avere entrate, pagare gli affitti. Mi immedesimo tantissimo perché sicuramente non sono il solo, siamo tutti nello stesso pianeta. È inutile nascondervi che per me sono stati dei giorni di veramente tristezza. in qualità di artista contemporaneo mi sono sentito veramente, veramente, veramente scoraggiato. La tristezza nel viso, nel cuore. Pensare che sia tutto finito, pensare che tutto si fermi. è incredibile non avere neanche la forza di pubblicare qualche video, di comunicare. Poi sembra incredibile pensare ciò con una giornata, con un clima meraviglioso che abbiamo. Ragazzi, al di là, se credono o non credere, se allarmarsi o non allarmarsi, se uscire o non uscire, è successo. Al di là dell'artista, di questo personaggio che ho costruito, parlo da imprenditore. Non dico di prepararsi al peggio, ma evitate di spendere denaro, di allarmarvi e spenderne tanti. Comprate il minimo, l'indispensabile, quelle cose che è la farina, l'olio, la pasta. Conservare quei pochi soldini che ognuno di noi ha da parte, in modo tale da poter affrontare un'ipotetica epidemia globale, che è quello che sta accadendo. Per la prima volta vi dico, appunto, riguardante questo discorso, pensate il peggio. Quindi evitate di spendere denaro, conservatelo, per un'ipotetica epidemia. Grazie per avermi ascoltato. Un saluto da Studio Camurrina, ragazzi. A domani. Ciao! Ciao!